ciao sono carlo benvenuti qui da noi benvenuti nella mia cucina ed ora un grande classico della cucina romana facciamo oggi un bel piatto di pasta la matriciana iniziamo col guanciale togliamo a fettine dopodiché tagliamo a listarelle il guanciale iniziamo ora con una bella padella di ferro a sciogliere solo il guanciale mi raccomando non mettete le cipolle se ne odio la ricetta non è quella guardate il guanciale inizia a fondersi abbassato la fiamma per farlo fondere senza bruciare una volta che si è che vari pezzettini sono diventati croccanti lo togliamo lo lasciamo asciugare un po di carta assorbente utilizziamo un pelato che deve essere rigorosamente rotto con le mani così guarda che bellezza guarda che bellezza senti che piacere rompere i pelati così come rompo i pelati non li rompe nessuno questo piatto può sembrare può sembrare semplice ma ci deve essere un giusto equilibrio tra l'apporto di sapore del guanciale e il pomodoro e anche il pecorino perché se si sbilancia uno di questi tre fattori diventa praticamente innangiabile la padella deve essere di ferro perché nella padella di ferro il guanciale si scioglie non si attacca ed è comunque sempre buono ci sono varie ricette semplicemente l'aceto e perché io sono un pulista non ci metto niente guarda guardate grazie che si sta sciogliendo nella padella questo è tutto grasso suo non ho aggiunto nessun valore come direbbe qualcuno è tutto grasso piccola cosa meglio di un buon l'amblusco per accompagnare questo piatto l'amblusco ci sta benissimo perché il lavatriciano è un piatto leggermente grasso di base la frizzatezza di questo di vino anche se non è di queste parti è uno spettacolo se lo provate prevedete che lo riprovate 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 e poi ancora riprovate andiamo ad aprire la so che non deve fare la botta ma a me quando mi piace sempre guardate la consistenza che che ha preso questo manciale quindi ora possiamo iniziare a toglierlo e lo mettiamo su un po di carta assorbente per far per renderlo ancora più croccante guardate la padella di ferro come trasmette bene il calore è usata per questi piatti ma soprattutto anche per fare le fritture io qualche pezzettino sono solito lasciarlo all'interno della padeciana anche se si ammolla per dare un po più di sapore ed ora alziamo un po la fiamma e mettiamo il calore guardate come se viene quando vediamo sul sugo abbiamo preso un po di acqua di cottura della pasta per diluirlo un po per renderlo ancora più creoso in attesa della sua sposa il sugo sta aspettando la pasta alla sua sposa ragazzi la cucina italiana è la migliore cucina del mondo su questo non dobbiamo avere dubbi ed ora possiamo finire un momento di scolare la pasta è una pasta dura una pasta di carattere quindi c'ho messo tempo a cuocersi non dimentichiamoci che c'è anche questa guanciale mettiamo un bel piatto di pasta mi sono un po' scostumato delle porzioni mi piace il piatto pieno on top una bella pioggia di guanciale tritato buon appetito ciao 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 ciao